ha detto che Jessica ha ricevuto un messaggio da Davide dove Davide gli ha detto che se non fossimo in questo contesto ti porterei via è giusto Jessica? sì sì è giusto no succede che io ogni volta che mi giro vedo che Davide mi guarda sempre, non c'è stato un attimo che io non guardavo lì e lui era lì che guardava me non si è mai distratto questo ti fa piacere? sì però c'è stato un momento dopo che se non erro che ho sbagliato che ho ballato con Simone che io l'ho guardato lo vedevo tutto rosso ma proprio tanto cioè non so se tu l'hai notato ma era proprio ma perché ti secca se e io gli ho detto tutto bene guarda che tu hai il collarino non hai bisogno del gelato ok no adesso infatti ci siamo un attimo chiariti comunque non sono geloso forse mi sto lasciando un po' prendere effettivamente dal contesto quindi effettivamente ieri ci siamo detti anche delle cose importanti anche intime per essere una prima uscita e quindi adesso un primo approccio è vederla comunque con altri ballarle, ballare, starle vicino un po' l'effetto mi fa